Per le vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti come femminicidi e violenze sessuali e per gli orfani dei crimini domestici, lo Stato c'è. Torna a guardare il futuro. Invia la domanda al Fondo di Solidarietà istituito dal Ministero dell'Interno e gestito dal Commissario Preposto. Chi chiede, non resta solo. Vai su interno.gov.it e scopri come inoltrare la domanda. Grazie.